Milano, palazzo dello sport, congresso provinciale del fronte democratico popolare. Con le fiamme verdi di giustizia e libertà, partigiani e decorati della liberazione si mescolano al pubblico. Molè motiva l'adesione della democrazia del lavoro. Gli scrittori Tittarosa e Bernari rappresentano gli intellettuali. L'onorevole Paglietta ha terminato ora il suo intervento. Anche l'ex prefetto Troilo ha pronunciato calorose parole. Nenni ha detto, il fronte ha in programma una politica di unità e collaborazione all'interno, una politica estera di pace. Con Nenni, Passo ha portato l'adesione del Partito Socialista Italiano.